Cavaliere, questa onorificenza che cosa va a coronare? Un percorso? Un percorso di lavoro, di impegno, non solamente imprenditoriale ma anche sociale, culturale. Io mi occupo di musei da oltre vent'anni in parallelo alla mia attività imprenditoriale ed è soprattutto una soddisfazione per tutti quelli che hanno lavorato con me perché ovviamente nessuno di noi è in grado di realizzare le cose da solo e quello che conta innanzitutto è il metodo e la qualità dei collaboratori. Ed è importante anche la formazione, siamo qui al collegio universitario e che cosa rappresenta questo collegio per la federazione dei cavalieri? Beh è un'eccellenza, è un impegno molto importante che guarda al futuro quindi guardiamo ai giovani, ai giovani più meritevoli che speriamo di non perdere perché il problema non è solo quello di formarli ma è quello poi di inserirli nel mondo del lavoro possibilmente italiano perché viviamo un momento in cui le migliori intelligenze purtroppo se ne vanno dal paese. Quindi è un lavoro che va seguito, non è solo la formazione ma anche il post formazione. Penso che ci sia un impegno da parte dei cavalieri di lavoro in questa direzione e comunque diciamo è un'eccellenza italiana di cui noi siamo fieri di farne parte e di sostenerla. Prossimo appuntamento l'udienza papale, come la vive? Beh con grande curiosità devo dire perché ho molta simpatia per questo pontefice. Mi sembra che sia un pontefice innovatore come cerchiamo di essere noi imprenditori, lungimirante, mai banale, mai retorico per cui io ci sarò senz'altro.